Non mi interessa a me spendere i soldi, voglio che mio amore stia bene, la vesto bene, la mando al parrucchio tutte le settimane, anche l'aspetto non deve essere un aspetto così degradante perché sono pazienti che dimagriscono, pazienti che perdono la massa grassa, per cui bisogna avere rispetto per questa gente e non c'è rispetto, sono solo pronti a fare le cene, le conviviali quando è ora di andare a votare, a cercare il voto e questo è un'indecenza. E' arrabbiato e deluso Maglio Pierboni, medico chirurgo, specialista in ortopedia, medicina dello sport e fisioterapia, noto e stimato in città. Il dottore da mesi si batte per la riapertura del centro Alzheimer Margherita chiuso da marzo a causa della pandemia. Pierboni assiste alla moglie Adriana di 79 anni che già nel 2016 aveva avuto i primi sintomi della malattia. Durante il periodo del lockdown le sue condizioni si sono aggravate e il medico ha deciso di farsi aiutare da quattro donne per assisterla. Una situazione è diventata difficile sia dal punto di vista fisico che psicologico, la quale potrebbe essere risolta o almeno migliorata con la riapertura del centro di eccellenza regionale. Però a causa delle norme anticontagio si dovrebbe eliminare il servizio mensa, ridurre il numero di persone che frequentano la struttura e aumentare il personale e le spese straordinarie tra cui quelle per la sanificazione. Sarebbero fondamentali quindi le risorse per far fronte alle tante necessità e restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria. Ma ad oggi la cooperativa che gestisce il centro, la labirinto, è ancora in attesa che la regione batta un colpo. Mi sto battendo anche a livello locale con i politici locali e che mi si risponde che non hanno la possibilità di fare niente perché è di competenza prettamente regionale. Io mi trovo in una situazione, mi sembra a casa mia un campo di battaglia, cosa vuol dire? Che praticamente mia moglie è insufficiente, ingestibile, sono costretto a mettere i divani nei punti in cui la casa è pericolosa, dove lei può salire le scale, scendere le scale, nasconde tutto. Uno non si rende conto di quella che può essere questa malattia. Io onestamente ho fatto il medico, ho fatto il chirurgo e mi rendevo conto quando queste poverette operate di femore urlavano durante la notte chiamando la mamma, chiamando la sorella e veramente, mi scusi. È una situazione molto delicata e difficile. Difficile, per cui ci sono dei calmanti, ma i calmanti agivano durante la giornata, non durante la notte. Sono persone estremamente difficili da gestire, prosegue il dottore, che ha scritto anche al presidente della regione Marchi e assessore alla sanità Luca Ceriscioli, ma senza ottenere risposta. Io credo che un cittadino marchigiano abbia il diritto di avere una risposta da questi personaggi. Io sono contento che FanoTV mi abbia intervistato perché mi sto lottando da solo. La struttura è in degrado e in totale stato di abbandono, prosegue il medico, e la stanno lasciando morire. È una struttura creata dalla fondazione, passo lì davanti per vedere se è funzionante, mi accorgo che c'è l'erba alto un metro, pulmini fermi lì. Io mi sono fermato anche a suonare e nessuno risponde. Ho dedicato a Fano la mia passione che era lo sport gratis, non ho mai preso una lira. Quindi io da un punto di vista morale e sociale credo di essere a posto. E in Cito, soprattutto anche i politici fanesi, e sappiamo che occupano delle posizioni abbastanza importanti in regione, sono solo pronti ad andare a tirare il nastro per inaugurare qualcosa. Non ho sentito da parte di questo signore una minima, benché minima parola di supporto a questo centro. I politici, afferma il dottore, non si rendono conto della gravità della situazione. A farne le spese non è soltanto chi è affetto da questa malattia invalidante, ma sono anche i familiari. Io sono calato dei chili, mi sono preso una colita emorragica, seguire giorno per giorno. Io sono mio, mi chiamo il cantaguardia, mi chiamo il cantaguardia perché ogni qualsiasi momento devo guardare ma Armando dove sei? E poi sono diventato un conventuale, scusi il termine conventuale, non mi muovo più di casa. Perché? Perché non ho più interessi, non ho più stimoli, non ho più mordente. Per cui questa gente qui ti uccide anche psicologicamente, questa è la bruttezza di questa malattia. Nei prossimi giorni, ci spiega il dottor Pierboni, mi incontrerò con le persone e i familiari che sono nella mia stessa situazione e se sarà necessario parlerò nelle sedie opportune, il tribunale. Io credo soltanto che questa gente si deve solo vergognare. O che il nostro presidente della regione non conosce, essendo un preside, non conosce cos'è la malattia di Alzheimer, eventualmente si va a studiare, oppure ci sono altri interessi. E lui ha il diritto, il dovere di informarmi, per cui questo centro non viene aperto.